Condizioni di variabilità sono previste sulla nostra regione per questo fine settimana. Al mattino di sabato avremo ancora un cielo in prevalenza poco nuvoloso, temperature ancora basse in pianura e nei fondovalle montani con valori sotto zero. In giornata aumento della nuvolosità e nella serata, nella notte, sono possibili delle deboli precipitazioni sparse, quindi delle deboli piogge su pianura e costa, delle deboli nevicate in montagna fino a 400 metri di quota circa. Al mattino di domenica tempo migliore in montagna, quindi con una certa variabilità, ma anche con una presenza di sole, ancora nuvolosità variabile invece su pianura e costa, dove saranno possibili localmente delle locali piogge, al mattino comunque in miglioramento. Sulla costa inizierà a soffiare bora, inizialmente moderata, poi sostenuta e in serata probabilmente anche più forte. Variabile il tempo anche all'inizio della prossima settimana, temperatura in lieve calo, sempre con la presenza della bora sostenuta o moderata sulla costa, valori intorno ai 2 gradi, nei valori minimi sulla pianura e sulla costa, le massime intorno ai 6-7 gradi. Probabile peggioramento per la giornata di mercoledì, ma per questo ovviamente bisogna aggiornare le previsioni. Buon fine settimana a tutti!